Dobbiamo accontentare tutti, affermava il governatore della regione Basilicata, il DEM Marcello Pittella. A carpire la frase, sono stati finanzieri di Matera, convinti che l'intercettazione esplichi il metodo adottato per gestire concorsi e nomine nella sanità pubblica. Concorso in falso e abuso di ufficio sono le accuse da cui dovrà difendersi il presidente Pittella che da stamattina è agli arresti domiciliari. Gli investigatori che indagano da quasi due anni non hanno dubbi, è lui il deus ex macchina della distorsione istituzionale che si è verificata nella sanità lucana. Lui risponde a titolo di concorso in illeciti che sarebbero materialmente stati consumati dal direttore amministrativo dell'asile di Matera. Tra gli oltre 30 indagati a vario titolo per truffa, abuso di ufficio e corruzione ci sono figure apicali della sanità pubblica lucana e pugliese. Nessuno questa mattina è entrato qui negli uffici della direzione generale dell'azienda sanitaria di Matera perché sia il suo commissario straordinario Pietro Quinto sia il direttore amministrativo Maria Benedetto sono finiti in carcere. Ci sono delle frasi in cui la Benedetto dice questa è la lista del presidente, ecco perché noi sappiamo, ecco perché il presidente è tirato in ballo e anche il Quinto che si informa sempre, è il trade union. Le intercettazioni dell'inchiesta denominate il sugello hanno rivelato come sia stato addomesticato il sistema sanitario lucano. Gli accertamenti eseguiti evidenziavano il totale condizionamento della sanità pubblica da parte di interessi privatistici e da logiche clientelari politiche.